Sì Guarda che volante un'ottima scelta Mantiene alti i tuoi standard e piace anche a tuo padre, Metz Quello lì, di che figlio? Questi nostri amici devono assolutamente partecipare a una festa Sarete il nostro piatto forte Spero solo di non trovare i frattagli del suo coniglio sotto al Milano È una lepre Sono una famiglia eccezionale E cosa succederà se non dovesse uccidere quello là? Sopravviverà La dico però che te lo potessi sottrarre io Ma io vado più alla qualità Che alla quantità L'unica differenza È tra chi muore E chi ammazza Vuoi vedere come la uso? Non dirmi che non ti è piaciuto giocare in Ligatani Mia madre ti voleva morto Santa donna No 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 No